amici benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fotografia oggi come vedete ho un piccolo cavalletto con una macchina mirrorless qui sopra oggi parliamo di una mitica staffa adelle universale ma esistono tanti tipi che ci permette e ci agevola la vita io vi racconto il mio punto di vista è una spesa minima e io ho trovato negli anni una grande agevolazione su questo discorso perché è piccola leggera e casomai si smonta anche allora come vedrete dai b-roll e anche da questa immagine live che vedete è questa staffa con attacco arca suisse quindi molto piccola è composta da delle zone quando la comprate è smontata come vedete qui avete due vitine con le brucole qual è l'utilizzo per anni io l'ho snobbata ammetto sarà 4-5 anni che la uso perché il vantaggio di una staffa aggiuntiva diciamo multiuso è che a parte esistono molti tipi con anche questa parte mentre io l'ho scelta bucata perché ci attacco i cavi remoti sia della sony sia delle reflex nikon molte hanno delle varie perforazioni quindi qui sono piene è una scelta che dovete fare voi e perché ci si può attaccare altre cose la cosa principale che mi ha fatto decidere di comprarla e la voglio suggerire anche a voi perché è veramente una spesa sciocca è il fatto che con arca suisse ha la slitta attacco rapido qui ma ce l'ha anche nel lato verticale perché ho scelto di comprare una staffa e autorizzarla quando sono su treppiedi ha il grande vantaggio che sia nei pochi paesaggi che faccio ma soprattutto negli interni alberghi b&b e case il fatto di trovare con il treppiedi il la bolla quindi tenere la testa in una posizione ben stabilita mi permette senza che ogni volta sgancio la testa metto a 90 gradi per fare il verticale poi ritorna su metti un'altra volta in bolla con questo sistema molto facile e comodo c'è il vantaggio che io facilmente con la slitta la tiro fuori ok e la metto con estrema facilità in verticale tutto rimane sempre in piano in bolla poi ovviamente correggerò attraverso l'obiettivo se voglio l'inquarratura ma tutto rimane in piano quindi io mi agevolo quando faccio gli hdr quando faccio anche qualche ritratto una volta che il cavalletto è in bolla io velocizzo il lavoro e mi porto a casa un sistema molto comodo eccolo qua quindi come vedete la testa rimane sempre libera va bene e non è pochissimo io come ripeto l'ho sottovalutata per molti anni poi in effetti avendo adesso dopo tanti anni di manfrotto quindi attacchi cavalletto manfrotto avendo molti cavalletti con attacco arca suisse e avendo comprato una universale da pochissimi euro naturalmente mi trovo con estrema facilità a cambiare da mirrorless a reflex da grandi reflex a piccole oppure l'altra piccola mirrorless la x20 della fuji quando cambio tutte queste macchine a vito sotto a una vite ottima del contanto di sapete quelle con gli anelli che non serve neanche i 10 20 centesimi per avvitarla e mi trovo che me la porto sempre cioè se esco con il treppiede esco anche con questa allora una cosa che una cosa di cui mi sono scordato da dirvi è importante allora meglio un po più lunga magari anche questi universali che possono bloccare ahimè se troppo lunga anche il vano batterie di alcuni modelli di macchina come per esempio le sony no che hanno le batterie qua però attenzione nel tempo mi sono accorto che il vantaggio di lavorare così non è un problema d'accordo perché io qui attacco tutti i cavi remoti e i microfoni che voglio se invece arriva un giorno che voglio fare il contrario e cioè scattare col bottone dello scatto d'acqua su qui devo avere un minimo di margine ora questa è piccola c'entra bene ma per fare uscire i cavi che mi servono questo non è un problema quando siamo con una mirrorless a psc piccola come questa ma può accadere quando si utilizzano reflex piuttosto grandi allora non avendo più la corsa della vite è importante avere qualche centimetro in più affinché la vite millimetrica da un quarto che abbiamo sotto scorra un po un po di più in maniera che io se voglio attaccare un microfono un cavo remoto da qui sotto ci sia abbastanza spazio per il resto non c'è problema considerate che io qui ci monto tutte le reflex quindi non è un problema ma la maggior parte delle volte non mi serve il cavo remoto quindi questo problema di lavorare così non l'ho quasi mai affrontato ma ragionandoci e facendo delle prove in effetti se avete una macchina piuttosto grande potrebbe darvi delle piccole delusioni quindi meglio di no naturalmente non l'ho detto l'ho dato per scontato la base la piastra dell'arca suisse che avere in dotazione con il cavalletto in questo caso non serve perché naturalmente la barra è fatta ad arca suisse quindi uscite solo con questa ovviamente nel tempo si sono evolute quindi uno può cercare queste universali come ho fatto io perché ho diverse macchine ma potete cercare specialmente in questi anni con il mondo millores potete trovare la staffa adatta alla vostra macchina ovviamente salirete di prezzo perché che ne so comprate adatte alla sony c'ha tutti i buchi sotto quindi i vani per cambiare batterie schede senza smontarla mentre queste universali come vedete io lavorando in questa situazione di staccata da qui io apro tranquillamente quando lavoro e metto senza la staffa finisce prima quindi sono scelte io ci ho speso poco perché la utilizzo solo col cavalletto e la maggior parte del mio lavoro non è mai col cavalletto è sempre di reportage quindi quando utilizzo i cavalletti monto la staffa sulla macchina con cui lavoro e mi trovo agevolato da questo lato se invece voi siete grandi utilizzatori per motivi di scelta fotografica potete anche soprattutto per le mirrorless comprare quelle adatta al vostro corpo perché al di là delle i vari vani studiati apposta per aprire i vari sportellini vi fa anche a voi mirrorellisti anche un po di spessore per il famoso mignolo che spesso le macchine essendo più piccole come vedete scartano un po quindi fa anche un po di spessore io la consiglio a tutti secondo me è da tenere presente è una spesa veramente banale io probabilmente comprerò più avanti una un po più specialistica quando passerò totalmente a mirrorless per ora questa mi entra bene e posso lavorare visto qui che è forata posso attaccare microfoni cuffie soprattutto cavi per fare le foto sia con le nikon reflex e sia con la piccola mirrorless sony non c'è molto da dire sicuramente è un'invenzione sciocca ma molto interessante come vedete ha una vite ha una vite da un quarto sotto ed ha un foro dove io posso anche spostare il baricentro non è male comprate queste che poi avviterete con la brugola in dotazione perché sono più gestibili sono più utili addirittura per altre situazioni io ho fatto delle foto panoramiche quindi tolgo smonto il lato diciamo della l e la utilizzo in parte come punto per trovare il punto nodale ma poi lo vedremo in un video opposta quando devo spostare diciamo il baricentro della macchina avanti e indietro questo è quanto mi sembra una cosa molto utile non amo la struttura la gabbia che si crea giustamente molta gente ci attacca tante cose fanno bene ma torniamo ad aumentare troppo i pesi e i volumi una staffa l fa una gran buona parte soprattutto ci sono altre ve le metto in descrizione ci sono altre che possano portare un faretto o un microfono io devo farci l'architettura la maggior parte e paesaggio quindi mi basta questo per i più perfezionisti o che hanno esigenze maggiori della mia vi lascio in descrizione qualche modello diverso vedrete che cambia un po il prezzo perché il servizio diciamo è diverso però è una cosa molto utile da legare al cavalletto al treppiedi anche perché immaginate che insomma io una volta che metto in bolla faccio veramente senza spostare niente e trovo ovviamente adesso la macchina non è in bolla ma trovo facilmente verticale e orizzontale grazie per l'ascolto oggi un video breve intimo però con un attrezzo molto semplice ma allo stesso tempo molto utile vi lascio tutto in descrizione io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao